qui invece come vi anticipavo siamo sotto all'area di servizio sr 203 a gordina che rimane qui sopra qui vai ha fatto danni notevoli è in corso la ricostruzione innanzitutto della protezione dell'argine sul torrente cordevone qui l'aciclabile è interrotta poi qui anche è interrotta e poi si congiunge con l'ultimo tratto che porta fino alla 203 a gordina vi assicuro che è molto bella una volta terminata sarà sicuramente bella e sarà uno dei collegamenti importanti con l'aggordino con le ciclabili dell'aggordino bene dalla località Le Campe di là c'è il bosco del comune di Rivamonte che ha iniziato a essere ripulito poco oltre la galleria dei Castei dalla località Le Campe vi dicevo è tutto